benvenuti in un nuovo gameplay su fortnite battle royale buona visione come al solito una revolver di merda come al solito o da me sta per morire ucciso da mare da ok no 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 ah sei te bella bezza ciao ciao velo vieni vieni fede fede vieni qua dove sono io prendi questo prendi queste e prendete questa zero bende però adesso le andiamo a cercare aspetta aspettiamo abdullah fede aspetta un attimo dai abdullah muoviti grande vai vai abdullah tieni fede fede che è la parola che è la parola di rinnovazione una meta sbagliata e uno che ha confuso la casa del giro e una volta arriviamo eh oh è stata abdullah questa te ne serve un'altra ok andiamo andiamo fede questa eh mi sono bloccato porco maiale abdullah dove cazzo sei finito vai cazzo uccidilo grande edo fra che situazione di merda madonna santina ti lascio un po di cose aspetta tieni ok hai anche dei colpi quelli si per cerchino arriva arrivo bella grande ti serve qualcosa colpi o vede edo vieni qua vabbè no ce l'hai già ce l'hai già no niente mi sa che hai rotto la cassa dove dove arrivo c'è poi grande merda grande edo ti serve qualcosa no no niente grande merda ho visto visto gran kill da me da me da me una terra da me da me da me vado a pusharlo vai vai te spara 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 la merda stava arrivando le altre due ma tanto termine poco questo cazzo di fucile posso prenderlo anzi no no usalo 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 te usalo te no no vai tra vai tra usalo te vieni qua ti faccio anche la porta qua quiet merda gran partita cazzo un mesetto fa così forse due mesi fa questo inverno per fare sì che cazzo aspetta da sopra merda vai vai dobbiamo assolutamente andare dalla parte sopra cazzo la merda da me qua giù nella bat gaverna mi sa ecco ecco coglione che coglione lascia meno quel cecchino che mi serve assolutamente qua oh Vittorio reale Vittorio reale Solamente per voi Solamente per voi Gang Sono gang 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 E la vincono Vittorio reale Se ti è piaciuto il video Clicca mi piace e iscriviti Ci vediamo al prossimo video Bella